è arrivato il giorno dell'assaggio della birra kit fatto in casa questo è il kit che ho comprato io e adesso andiamo ad assaggiare sono passati, dunque il 23 aprile all'una l'ho messa in fermentazione sono stati 5 giorni più 2 di frigo sono circa 7 giorni e quindi adesso andiamo a fare la spillatura l'unico modo che ho di posizionare il tutto per far vedere bene perché non mi andava a diventare il cavalletto le cose e quindi ecco allora questo è il fusto e andiamo a vedere allora bisogna cioè la valvola questa rossa dice tirare quindi si tira la valvola così si estrae quindi vediamo un po' aspettate che devo tirare fuori con due mani chiaramente eccolo così e avviene di questo io adesso non so neanche da dove esca perché è la prima volta andiamo a vedere metto il bicchiere così perché chiaramente almeno non andiamo a eccola qua ah proprio a pressione allora quando è a pressione così bisogna stappare sopra la valvolina quella azzurra va tirata per guardate è bello comunque è il colore ora lo faccio vedere adesso viene giù piano piano eccola qua guardate che bella birra che ho fatto eh grandiosa allora io sto tirando la valvola in alto quella azzurra poi vi faccio vedere meglio così può essere sufficiente e si chiude il rubinettino allora questa questo è il risultato vedete che è non filtrata guardate che è bellissima guardate che schiuma corposa non pensavo a venisse così perché poi mi hanno detto ah ma a volte non fa neanche la schiuma è difficile fare la fermentazione invece questo kit guardate voi è incredibile allora l'odore è buono perché ho messo dei pezzettini di legno se vi ricordate andate a guardare il video non mi ricordo dove l'ho messo forse nel canale quell'altro perché questo lo sto facendo sul canale mio principale quindi andiamo ad assaggiare questa bella birra kit fatta in casa è tedesca brau fashion vabbè non lo so dire allora molto amara devo dire che è amara è buona è incredibile guardate che è buonissima ha l'amarognolo alla fine rimane poi è corposa e dura come birra perché è amara è abbastanza amara però l'effetto che lascia dopo in bocca è favoloso quindi io ve lo consiglio di provare perché a parte la soddisfazione di vedere una birra fatta da te anche se poi mischiate soltanto degli ingredienti però io mi sono segnato un po' tutte le cose e quindi ecco potrei anche riutilizzare questo facendolo io tutto il procedimento quindi chi beve birra che ha un po' cent'anni io la so fatta da solo 5 litri questo orientativamente mi sembra che costa sui 39-40 euro magari non c'è neanche il guadagno nel fare questa cosa però guardate che è la soddisfazione di spillare una birra fatta in casa buona buona vi faccio vedere la valvolina che tiravo io questa qui va tirata in alto e la sentite quando si spilla in modo tale che la birra poi scende con tutta tranquillità ve saluto chi beve birra campa cent'anni non c'è